ed ecco ripulito il primo passaggio sono state ripulite dalle cose principali adesso le do una lavata e poi le pulisco ancora ora ecco le radici ripulite adesso poi le passerò ancora sotto l'acqua e poi le metterò nell'arco 95 le ho ripulite abbastanza prima che altro ho tolto la terra togliono ancora queste piccole radicchi che vedo qua essere sicuro al cento per cento di aver meno residuo possibile e poi a metterli sotto l'acqua non le schiaccio perché intanto le lascerò un mese macerare quindi non ci saranno problemi i succhi usciranno ecco la prima bottiglia e la seconda naturalmente verrà diluito poi diluito